Ogni tanto ho anche un coltello italiano, questo è un Fox, di forma tanto, il fodero in pelle molto elegante, ben rifilito, aggancio per la cintura, il coltello ha una bellissima lama tanto, manico in legno e un full tang, penso da 6 mm di spessore, impugnatura molto bella, le guardie sono in ottone e in 440, quindi facilmente è attivabile. Grazie